Il linguaggio musicale contiene elementi regressivi e trasformativi che possono facilitare alcuni processi mentali, accompagnandoli nella loro evoluzione e trasformazione. È la tesi di numerosi studiosi che trova ampie conferme sul campo. La musicoterapia viene applicata in diversi settori, sempre con grande successo. È una forma di terapia che si basa sull'elemento corporeo sonoro, non verbale, e consente di lavorare sulla relazione in modo preventivo, riabilitativo e terapeutico. Ormai la musicoterapia, in Italia e non solo, ma anche in tutto il mondo, viene applicata in innumerevoli ambiti. Si va dal prenatale, dalla nascita, possiamo dire, fino all'accompagnamento alla morte. E poi la troviamo nella disabilità intellettiva e psichica, la troviamo in psichiatria, la ritroviamo in svariati settori, per cui sono tantissime le applicazioni che viene fatta questa prassi. I benefici sono di natura un miglioramento relazionale, comunicativo, un'armonizzazione del sé e anche nei rapporti con l'altro o gli altri, similari. La musica che appartiene a queste persone può fare star meglio, integrare e migliorare il proprio sé, spesso in abbastanza disarmonico, per cui si cerca di aiutare questo processo terapeutico che è abbastanza impegnativo e lungo.